Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi vediamo come aggiornare le graduatorie provinciali ed istituto di supplenza per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Qui parleremo dell'aggiornamento, quindi di chi si è già inserito nel 2020 e deve soltanto aggiornare la graduatoria provinciale. Vediamo ora l'operazione, quindi selezioniamo aggiornamento e la provincia alla quale inoltrare la domanda. Questa provincia potrà essere modificata qualora la nostra graduatoria provinciale non voglia più essere presentata, quindi la nostra iscrizione possa essere anche in un'altra provincia. Quindi andiamo avanti sui dati personali e vediamo ora la scelta delle graduatorie di interesse, che sono quelle che avevamo già scelto in passato. Clicchiamo azioni disponibili e allora vedremo le graduatorie a cui ci siamo iscritti. Sappiamo però che queste graduatorie possono anche essere implementate. Infatti possiamo aggiungere una nuova graduatoria, perché in questi anni potremmo aver conseguito ulteriori esami che ci permettano quindi di iscriverci a una graduatoria in più. Quindi in questo caso dovremmo rifare la procedura e selezionare il tipo di graduatoria, poi cliccare inserisci in modo tale da inserirci in una nuova graduatoria in più. Vediamo ora i titoli ulteriori rispetto al titolo d'accesso. Come vedete noi possiamo dichiarare dei titoli ulteriori, titoli che abbiamo conseguito in questi due anni. Possiamo dichiarare un titolo accademico, ancora possiamo dichiarare titoli professionali e culturali. Andiamo ancora avanti, per esempio il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL, tab B4-B12, la certificazione CECLIL, ancora le certificazioni linguistiche come il B2, i master universitari di primo o secondo livello che andranno inseriti, la specializzazione italiano L2 e soprattutto le certificazioni informatiche che sicuramente molti di voi avranno conseguito e quindi cliccare il tasto aggiungi, inserire data di conseguimento e istituzione che ha erogato il corso, che ci ha permesso di conseguire la certificazione informatica. Ancora altri titoli accademici, come menzionavamo prima l'L2 e poi andiamo avanti e torniamo indietro. Per inserire i titoli di servizio, abbiamo già i titoli importati dal fascicolo e già dichiarati, dobbiamo importare dal fascicolo i titoli ulteriori. In questo caso quindi andremo ad importarli e poi dovremo comunque però compilare dei dati che ci verranno richiesti dal servizio. Dobbiamo quindi inserire la graduatoria su cui far valere il servizio. Quindi il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei paesi UE? In questo caso no. Qual è l'insegnamento su cui è stato prestato il servizio? In questo caso a 12. Devo indicare la tipologia di servizio, quindi in questo caso istituzioni statali e paritarie, ma ce ne sono anche altri, dipende dal vostro caso. Possiamo selezionare la tipologia di supervalutazione facoltativo nel caso in cui abbiamo prestato servizio per esempio in una scuola di montagna, eccetera. Menzionare, quindi spuntare l'annualità di insegnamento sul posto di sostegno, se abbiamo prestato l'insegnamento sul sostegno e il periodo del servizio. Come notate io ho segnato 31 maggio. Questo perché? Perché chi presta servizio dall'inizio dell'anno ha già raggiunto i 180 giorni e quindi non è necessario che riapra l'istanza nuovamente a luglio. Tuttavia, per chi non ha prestato servizio in modo ininterrotto o comunque sia non raggiunge i 180 giorni a maggio, potrà dichiararlo. Dichiararlo in modo tale poi da aprire nuovamente l'istanza a luglio per poter, che cosa? Per poter confermare la data di presentazione. La questione del 31 maggio è stata abbastanza dibattuta. Come vedete, quindi hanno dato la possibilità di dichiarare di avere il contratto in essere. Molti sindacati hanno spiegato che la questione del 31 maggio ci serve, quindi dobbiamo spuntare la dichiarazione di avere un contratto in essere nel momento in cui noi raggiungiamo i 180 giorni. Altrimenti è pressoché è inutile riaprire l'istanza. Dopodiché dobbiamo inserire la provincia, cliccare modifica e aggiungere man mano i titoli di servizio. Ancora andiamo a vedere le altre dichiarazioni. Dobbiamo avere dei requisiti generali, proprio come nel 2020. Quindi in questo caso selezioniamo cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea. Naturalmente chi è titolare di carta blu oppure familiare di cittadini ai sensi d'articolo 23 spunterà questo. La maggior parte selezionerà cittadinanza italiana oppure la seconda possibilità. Dobbiamo non avere meno di 18 anni e più di 67. Dobbiamo essere regolari nei confronti del servizio di leva, come già visto in passato. Questa spunta era stata dibattuta anche due anni fa. Poi dobbiamo dire di non essere esclusi dall'elettorato politico, di non essere stati destituiti, di non essere stati licenziati, di non essere dichiarati decaduti, di non essere inabilitati o interdetti, di non essere dipendenti dello stato di enti pubblici collocati a riposo, di non trovarsi in una delle condizioni ostative. Dobbiamo poi dire di non essere soggetti a sanzioni disciplinare oppure, nel caso in cui invece ci troviamo in questa condizione, dire da quando a quando. Dire di essere consapevoli dell'accertamento dei requisiti di ammissione che vengono verificati, come avrete visto anche due anni fa. Le scuole hanno rilasciato poi dei certificati nei quali hanno confermato i punteggi. Altre dichiarazioni, quindi non avere procedimenti penali pendenti, non avere avuto condanne penali e poi le varie indicazioni riguardanti le dichiarazioni dell'aspirante. L'aspirante è messo in ruolo con riserva, dovrà spuntarlo e poi dobbiamo dare il nostro consenso alla privacy. La sezione delle sedi delle graduatorie d'istituto è già compilata, quindi possiamo selezionare le scuole, poi probabilmente ad agosto, dico probabilmente, ci sarà nuovamente la possibilità di scegliere le scuole. Naturalmente per chi deve anche iscriversi in prima fascia e ha vinto oppure ha avuto l'idoneità ad un concorso ordinario, cosa farà? Potrà iscriversi alla prima fascia, però con riserva. Infatti, se noi andiamo, scendiamo ancora rispetto a queste opzioni presenti, troviamo dichiarazione, conseguimento, abilitazione dopo il termine di presentazione della domanda, ma entro il 20 luglio. Quindi ci impegniamo a comunicare l'avvenuto conseguimento della abilitazione. Come avete visto, poi basta cliccare inoltre e la domanda è stata inoltrata. Spero di esservi stata d'aiuto. Inoltre, vi ricordo di leggere con attenzione quanto pubblicato in gazzetta ufficiale per quanto riguarda la normativa di riferimento, che vi lascerò anche in descrizione a questo video. In questo modo potrete avere anche una lettura passo per passo dell'aggiornamento per quanto riguarda le graduatorie provinciali. Molto importante per avere ben chiara la normativa. Questo documento si chiama Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali di istituto di quell'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter della legge del 3 maggio 99. Lo trovate qui e è stato pubblicato il 6 maggio 2022. Vi ricordo che le graduatorie rimarranno aperte fino al 31 maggio. Dopodiché ci sarà una finestra eventuale per la conferma dei titoli o del servizio ancora dichiarato in essere. Buon aggiornamento! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!